Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 6 novembre 2015. Benvenuti a tutti e ben ritrovati. Cominciamo subito con il santo del giorno perché oggi è una beata particolare, vale la pena per un attimo soffermarsi perché la beata Cristina von Stommel è una mistica tedesca vissuta nel 1312, fu posseduta dal demonio per quasi tutta la sua esistenza. A leggere questo molti diranno ma come una beata posseduta dal demonio? Sì, la possessione è infatti un grande dono che Dio fa a chi vuole. Nasce a Stommel in Colonia col nome di Cristina Bruso appunto nel 1242. per rendersi conto di chi fosse questa straordinaria ragazza è giusto sapere che all'età di 7 anni le fece visita anche un angelo, un serafino che la solitò in modo particolare insomma, un po' come fece l'angelo Gabriele a Maria. Dunque è una storia molto bella, se volete potete leggere andando anche su internet. Il sole è sorto alle 6.50, tramontarà alle 16.54. Andiamo a vedere adesso il tempo, il tempo per oggi. Avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento, eventi deboli, il mare sarà poco mosso. Per domani sabato 7, lo stesso cielo sereno poco nuvoloso. Per quanto riguarda la giornata di domenica altrettanto sole e vedete su tutta la costa con temperatura in lieve aumento. Tempo stabile sulle marche anche per gran parte della prossima settimana. La notizia d'apertura del resto del carino di Pesaro. Indagati Pelagaggio e Chiarabilli per la MP avevano cercato di imporre ad un tecnico del comune di Fossombrone un parere negativo a priori. Il sindaco di Fossombrone dunque Maurizio Pelagaggio e Niguai per aver fatto il prepotente, scrive Roberto Damiani questa mattina sul giornale con i propri uffici, imponendo loro cosa dire, cosa fare per bloccare un'azienda, cioè la MP di Calmazzo. Per la procura di Urbino questo significa violare una norma del codice, si chiama induzione in debita, in questo caso solo tentata, nei confronti di un dipendente. Ed è la stessa ipotesi di reato contestata anche al vice sindaco Michele Chiarabilli. Sulla pagina di Fano invece del resto del carino non siamo solo controllori ma serviamo la città. Ieri a Fano c'è stata la festa per il 152esimo anniversario della fondazione del corpo di polizia municipale e c'è questa intervista che il giornalista ha realizzato con il comandante della polizia Giorgio Fuligno che in certi passi è stato, in certi momenti è stato anche duro, dice io sono orgoglioso dei miei uomini, lavoriamo sotto organico e riceviamo pure le offese. Alcuni dati pubblicati sul giornale dall'inizio del 2015 sono 22.242 le sanzioni elevate ma soltanto 48 per l'utilizzo del cellulare alla guida. Scompare Casanova, Casanova storico e giornalista, aveva 96 anni di resse all'umanità, viveva a Roma da tempo, oggi i funerali in Duomo. Era nato il 15 novembre del 1919, i funerali si svolgeranno alle 15.30 nella cattedrale di Fano. I nodi della caserma Paolini, il sindaco Seri, la proposta non era nostra, ci dobbiamo ragionare, è complicato il progetto per il nuovo utilizzo. L'assessore Paolini dice il terreno è del demagno ma la pianificazione del comune serve dunque una variante. Al via da Cartoceto, al via la Carmes dell'Olio, torna Cartoceto Dop Festival, tante novità nella 39esima edizione con un prodotto di qualità. Università e varie scuole daranno il loro contributo alla manifestazione. A San Giorgio di Pesaro invece dopo i lavori riapre la scuola, ieri il taglio del nastro e a Marotta invece il passaggio a livello torna a far discutere, la soppressione non è certa, il ricorso accettato, l'udienza è in aprile. Andiamo sulla pagina, vi segnalo invece la pagina degli spettacoli del quotidiano Il resto del Carlino perché si parla della predella di Fano, c'è un intervento questa mattina, un articolo di Dante Piermattei che è uno storico, uno studioso dell'arte, la predella di Fano è il mistero di Raffaello, quando l'opera venne iniziata aveva 5 anni, ma insomma questa predella di Fano che tutti vogliono è del Perugino o di Raffaello? e qui c'è tutto l'articolo da leggere. Interessantissimo. Agonia dell'ospedale si nega l'evidenza, Fossombrone, siamo sulla pagina del Corriere Adriatico, da Fossombrone dal comitato parte un appello al Presidente della Regione Ceriscioli, chiude il laboratorio analisi e si contrae l'attività del PPE. Poi il delitto di Sant'Angelo Invado, l'Avvocato Pasole, non escludiamo un faccia a faccia tra Igli e la compagna Ambera, quella che avrebbe poi scatenato tutto il pandemonio. Il legale Carlo Taormina attendono gli esiti dell'autopsia, delle ricerche sulle conversazioni telefoniche e poi decideranno come procedere. L'Avvocato della vittima di fronte ad un omicidio del genere non basta dire che non aveva le rotelle a posto. Ancora dal Corriere, la pagina di Fano, Pegan, l'uomo scomparso, il 43enne fanese scomparso nell'agosto del 2013 a Tirana in un viaggio per andare a trovare la sua fidanzata, non si è più trovato, si muove adunque il commissariato persone scomparse su richiesta dei familiari per avere notizie dell'inchiesta aperta a Tirana sulla morte del fanese. Caserma, visione di insieme da recuperare, l'assessore Paolini si dice possibilista sulle esigenze dell'arma dei carabinieri, si sbloccano fondi comunali, stiamo elaborando il documento di revisione del PRG, ripartiamo valorizzando, dice Paolini, tutte le funzioni pubbliche. Sotto invece telecamera in funzione, ma il bandito non si vede, si parla della rapina alla BCC di Lucrezia, tiene a far sapere che un'elevata attenzione è posta alla sicurezza dell'istituto stessa, dirigenza della Banca di Credito Cooperativo, la cui filiale di Lucrezia è stata vittima di una rapina. I malviventi sono entrati alle 13.15 nella sede di Via della Repubblica, prima un uomo ben vestito ed armato di coltello ha chiesto di far entrare una seconda persona con il volto travisato, poi entrambi in pochi istanti hanno portato via i soldi contenuti all'interno delle casse. Sotto organico Mattenaci, anche qui il resoconto della festa di ieri della Polizia Municipale, mentre il Comitato del Centro Storico si trasforma in un gruppo di lavoro, impegno dei commercianti del Centro Storico. L'oro verde che profuma il borgo antico, l'oro verde ovviamente è l'olio, quello che tutti i giorni usiamo per cucinare e che, insomma, l'olio è quello buono, non so, quello che costa ma che comunque certamente fa anche bene per tutte le proprietà organolettiche che ha però l'oro verde, ecco perché viene definito oro, perché costa comunque quello buono, profuma il borgo antico, domenica anteprima di Cattoceto, dopo il festival dedicato all'oliva e all'olio ma non soltanto. Degustazioni infatti, visite ai frantoi, trekking, mostre e tre grandi concerti al Teatro del Trionfo. Dunque domenica la prima giornata e poi sabato 14 e domenica 15 novembre. A Isola del Piano Summit sull'agricoltura biodinamica, tre le sessioni di studio dedicate a pratiche tecnologie, mercato e politiche pubbliche. Andiamo adesso invece sulla pagina di Senigallia, la cronaca vola dalla moto e finisce contro il guardrail, un centauro di 31 anni ha perso il controllo sul ponte Zavatti, non ricorda nulla di quello che è accaduto. Queste sono le fotografie dell'incidente per capire la dinamica della sinistra, la polizia di Senigallia ha visionato i filmati di alcune telecamere. La cugina è la titolare di Bottega Verde dove è crollato il soffitto qualche giorno fa. Un altro grande spavento, dice, dopo quello che le è accaduto in negozio. Naturalmente poi il traffico è andato in tilt. Mentre, eccola qua, la pagina del messaggero, la pagina di Pesaro con Valentino Rossi. In primissimo piano c'è la notizia di Niego, del no, del TAS, del Tribunale Sportivo, che dice, no no, Vale, tu partirai in fondo, partirai ultimo. Quindi, respinto il ricorso, darò battaglia, dice Valentino Rossi, che si è detto amareggiato, chiaramente per l'esito del ricorso al TAS. Intanto a Tavuglia si prepara ad accogliere la marcia gialla di domenica per seguire Valencia e dunque sono attesi, come dicevamo già nei giorni scorsi, migliaia di persone. A Pesaro, invece, piano spiaggia, il Comune va avanti. Dopo lo stop della sovrintendenza, Teregis dice presto per dare giudizio, attesi altri pareri. Poi il confronto. Sotto, Olio e Olive. Cartoceto celebra i suoi tesori con il marchio DOP, anteprima domenica o con il Clu nel fine settimana del 14 e del 15 novembre, con una ricca agenda di spettacoli. L'apertura, le altre notizie invece, sempre sulle pagine del messaggero, quella delle marche, Tagli, dopo la sanità Ceriscioli difende trasporti e turismo, l'incontro con il Premier Renzi, garanzie sui finanziamenti per l'assistenza, interverremo al minimo anche negli altri settori strategici. Poi la fanese Ricciatti, che è onorevole di Sinistra Ecologia e Libertà. La deputata di Selle inizia dalla Camera, un modello che ho intenzione di esportare, dice lei, nelle Marche. Nuovo gruppo con gli ex del PD. Una nuova fase per la sinistra italiana e quella marchigiana. Spiaggia per i cani. Il no non ferma il Comune di Pesaro. La bocciatura, come dicevo, della sovrintendenza non fa arretrare l'assessore De Regis, che dice, questo è un po' presto per dare dei giudizi, pressing dell'opposizione sulla Giunta. Il piano spiaggia, così come è approvato, compromette il lungomare. Poi, parco 25 aprile, il bocciodomo non risolve i problemi. Si parla di bivacchi e di vagabondi. Baiocchi, di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, interviene sul degrado dell'area di via dell'Acquedotto. E poi l'agonia del distretto del Mobile, persi 4.000 posti di lavoro. Andiamo sull'altra pagina, la cronaca, sempre da Pesaro. Furti, mamma e figlio, razziavano nelle scuole dove la donna lavorava. È stato il preside, insospettito, a rivolgersi ai carabinieri che hanno sequestrato un tesoretto tra PC e cancelleria. Si parla di qualcosa come diversi chili di matite, di penne che la sessantenne addetta alle pulizie, alle medie ed elementari, sottraeva con la complicità del figlio. Stalking, lesioni e violenza, doppio processo per l'ex che non si rassegna. La vittima vive nel terrore ed è stata sottoposta anche ad un delicato intervento al volto per le botte ricevute. Tavuglia, una marea gialla per Rossi, già tutto esaurito in un paese. In paese sarà difficile trovare un posto a tavola anche durante le prove. Poi domenica, tutti a piedi, allestiti i parcheggi e le navette per portare i tifosi provenienti da tutta Italia fino ai due maxi schermi. Sul posto tantissimi fans dirottati sugli alberghi delle vicine Pesaro e Cattolica. Poi, sempre dal messaggero, fusione, parte la campagna del no, stiamo parlando della fusione tra il Comune di Monbaroccio e quello di Pesaro e quindi c'è anche la campagna referendaria per spingere gli abitanti a votare no a questa fusione. Multe per un milione, ma i vigili, siamo sulla pagina di Fano, i vigili non solo, dice, non siamo solo dei sanzionatori. Il comandante Fuligno, in linea con l'anno scorso, le entrate delle contravvenzioni. Una replica indiretta all'opposizione e alle contestazioni di quest'estate, quando si diceva appunto che i vigili stanno lì solo per fare le multe. Si è svolta la tradizionale cerimonia per l'anniversario della Fondazione del Corpo e l'amministrazione comunale studia una campagna per promuovere l'immagine della Polizia Municipale. Per il Carnevale invece si avvicina la fumata bianca, le sfilate allegoriche, sono in programma il 24 gennaio, dal 24 gennaio al 7 febbraio, costeranno 75 mila euro e comprenderanno due carri ristrutturati, altrettanto saranno recuperati, tali quali dai capannoni, che si trova in Viale Piceno. Poi alle 15.30 anche qui il messaggero ricorda che c'è in Duomo a Fano il funerale, l'addio a Glauco Casanova. Poi identificato il corpo ritrovato lungo il litorale lo scorso maggio. Ha finalmente un nome, il cadavere rivenuto lo scorso 23 maggio sul lungomare fanese. Si tratta di un turco di 36 anni, naufrago nel tragico affondamento lo scorso 28 dicembre della motonave battente bandiera turca, la Gok Bell, nelle acque a largo di Ravenna. Centro storico rinasce il comitato, ha cambiato il nome ma gli obiettivi restano gli stessi, legati al rilancio delle attività e alle iniziative, e poi conferenze, musica, proiezioni, senza dimenticare il volontariato. Sono gli appuntamenti del messaggero, appuntamenti che ci sono in città. La rassegna stampa finisce qui, grazie per averci seguito, ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci.